Martino del food porn, benvenuti a questo nuovo video Oggi inizia il food tour di Salerno, provincia e diciamo tutto il salernitano Per il lancio della pagina di Italy Food Porn Salerno Ciao ragazzi, siete pronti? Vi lascio sempre il link in descrizione Andatela a seguire perché qua si va forte Andiamo al primo locale Prima tappa siamo a Pompei, provincia di Napoli Ma è vicinissima a Salerno, vi ho detto, vi facciamo tutto il salernitano Iniziamo da Bosco dei Medici Winery Ragazzi siamo in Golfcar, stiamo facendo il tour del vino Iniziamo ad andare a vedere i vigneti E poi ci scatafasciamo pronto Questi sono scavi di Pompei all'interno del loro vigneto Cioè Cristian è stato trovato una mummia qua dentro Iniziamo con il caprettore Questo colore è dato dal 30% di maturazione in ampore interracolta Quindi qualcosa che non trovate da nessun'altra parte Almeno in queste zone È molto bello Ragazzi è arrivato il taglierone perché col vino non deve mai mancare Questo è bello bello Ce lo spiego perché sono salumi particolari Cominciamo dai due lati C'è un sott'olio, ci sta una zucca e peperoni Come salumi ci sono mortadella ripiena di ricotta Poi questo è un culatello C'è un lonzino all'arancia e un capicollo Poi ci sta anche salame Napoli e questo è un salame siccato Grazie mille, grazie Poi vabbè come formaggi c'è un cacio bufala e questo è un pecorino La prima cosa che faccio è zuppare Ovviamente il formaggino è il mio Buone il vino ma è il tagliere ragazzi Mamma che mi sumano pecorino e miele Fatto sapore Secondo vino E' lui il super eroe che tutti aspettavano Farbolsman Continuiamo con una pancia di maiale cotta a bassa temperatura con demi-glace Molto di ritmo, bella speziata A me mi piace Ragazzi ha scafato e venuto il patavata dell'acqua E sta Cristian con questo ombrello molto maschile Ci mangiamo il gelato Siamo da punto freddo che fa un gelato disumano Perché il gelato lo mangia tutto l'anno Direttamente nel laboratorio E loro ci faranno il gelato sbriciolone Che è quello che Cristian mi ha decantato E' tremendo, è fantastico Questa è una crema al mucco Chiaramente Quindi dopo aver fatto il cioccolato bianco lo andiamo a versare nel mantecatore Ragazzi sta uscendo il gelato al cioccolato bianco Vati, vati Ragazzi attenzione Ragazzi avete mai mangiato un gelato dalla maschetta? E' la prima volta a chiedermi Ma Giuseppe fai schifo ma adesso non ti rosa Adesso sfamo un cucciolo di Matteo Ragazzi si continua con un mega gelato al caffè Gelato al caffè Tipo Qua La coppa del nonno tipo Qua Capito? Cioè E andiamo sul palettone campione del mondo Delizia al limone Cavernoso Oh no che cosa c'è dentro? Delizia al limone sana? Mamma mia Ma che spettacolo Spagno di limoncelro giusto? Agile Mamma ubriaca di Cristiano Mamma mia Vai No vabbè E' limonissimo No basta No Cioè Non volevo sfamare Mi ha rubato il panetto Dopo un'ora di salita sui monti Praticamente siamo arrivati a Labiano Andiamo a vedere Ragazzi è arrivato l'antipasto E' arrivato un staglierone Mamma mia Vai Adriana Il stagliere presenta Caciocavallo podolico Tassiccia di maiale Salame di maiale Bruschette con tattucco Mamma mia Ragazzi che profumo Caciocavallo Delle polpettine della nonna Abbiamo poi le cruschette con pomodorini Cocaccia fatta con l'impasto della pizza Noci fresche Olive e mela di labiano Ma guardate se caciocavallo Il caciocavallo è assurdo Mamma mia La cosa bella è che la pasta è tutta fatta in casa Questa è porcini e tartuco E queste sono le lagane e ceci Mamma mia Carboidrato buono agile Bella cattiva Questo è l'aspirapolvere senza filo Dyson più potente Ora intelligente Fortissima Proseguiamo con una grandissima tagliata podolica Con peperone crusco e stracciata Guardate che bella questa ciccetta ragazzi È saporitissima Non mi assaggia a peperone Ma è un strato oppo questa Ragazzi buongiorno Ieri siamo crollati nel nostro B&B Vi faccio pure vedere Perché è una cosa molto tipica Il buon Christian Mi ha fatto dormire L'ussato come un po' il cielo Dopo quello dove si è mangiato ieri Siamo alle radici Un B&B Presente nel Nulla Una figata assurda Cioè si sentono i campanacci Delle mucche Le pecore Quelle sono Mucche Penso mucche Siamo davanti e spersi nel verde Adesso andiamo a fare colazione Poi faccio pure la stanza Tutto ecosostenibile C'è il riciclo dell'acqua piovana Per diciamo gli scarichi E le fotovoltaici Sì colazione molto semplice Con cappuccino Cornetto caldo Bello Una piccola zuppata di Christian Mamma Guarda che combinata Poi la prima tappa del giorno Stiamo andando al ponte tibetano Un'attrazione assurda Di Laviano Si vola Sto smaltendo Facciamo attenzione Se no faccio il video Mentre mi cappotto Sul ponte tibetano Wow Siamo in mezzo alle montagne Ed eccoci qua ragazzi Il ponte tibetano Ma che figata è Antonio che sale Che soffre di vertigini Qua forse Non è il caso Che venga Ragazzi Ci vorrebbe proprio qualcosa di buono da mangiare Meno male che c'è Burk Una bella barretta al pistacchio Un ponte tibetano Ecco stai andando con video in diretta Che ci porta Mentre caruso In questa pace Ci vorrebbe solo qualcosa di buono da mangiare Meno male che c'è Burk Con le sue barrette Prosegui il giretto Siamo nel castello Ci accompagna Giuseppe Giuseppe facci un po' di cultura Che qua siamo ignoranti No Siamo andando al colatoio morti Detto buzze scula Che significa Buzze scula E' il giro che proprio deriva dal colatoio morti Adesso il giro Una persona importante Un nobile moriva Non veniva seppellito sottoterra Come le persone comuni Pensi veniva mummificato Questo tramite proprio il colatoio morti Praticamente no Il cadavere del nobile Veniva posizionato all'interno Di una di queste tre nicchi che vedete Di solito in posizione seduta Oppure rannicchiata Sul corpo si praticavano delle incisioni A livello dell'addome O sulle parti molli del corpo in generale Ed in questo modo proprio il corpo Con il passere del tempo e degli anni Proprio il liquido cadaverico Andava a colare All'interno di un recipiente Che si metteva sotto al corpo Ed in questo modo il corpo si mummificava E si conservava Quindi buzze scula E' proprio sì Devi morire Dopo il ponte tibetano Il castello siamo all'agriturismo L'Avamora Proprio sopra la montagna Che figata in questo agriturismo Anche il cesto è di legno Ragazzi Quell'agriturismo fanno i taglieri a metro Che spettacolo Qua i talumi sono tagliati Tipo bistecca Ma da questo Sto crudo È una fetta di carne Ragazzi sono arrivati i primi Guardate che caponata Partiamo da questo Allora queste sono le taratelle Con crema di zucca Nocciole E pancetta croccante sopra Queste sono le taratelle Ma che taratelle È facile per le taratelle A me non paro a voi Queste invece sono cavatelli Con peperoni secchi Fagioli E questa c'è anche La salsiccia del pezzente Una salsiccia Che deve ancora stagionare Quindi un misto Tra fresca e secca Buonissimo Straporte Attenzione Chiudiamo con una Sbriciolata Cazzutissima Wow Ma che bella Con le amarene dentro Qui all'agriturismo Si conclude con il caffè Dalla moca Wow Vabbiamo come a casuta Ragazzi Questo primo video Del food tour Per Italy Food Vanno Salerno Con Cristian Si conclude qui Andiamo alla prossima tappa Ma lo vedrete Nel prossimo video Quindi mettete like Condividete Andate a seguire Italy Food Vanno Salerno Vi lascio il link In descrizione E Ciao mattina